salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi ci troviamo in Valseriana precisamente farò un giro a Selvino e poi andremo a Montepoieto quindi ci sarà una fase di ripresa a terra con la DJI Osmo Action anzi lasciatemi nei commenti cosa ne pensate come la vedete in un vlog di passeggiate di gita domenicale e poi volo a Montepoieto con il Fimi X8 quindi un volo super panoramico per mettere alla prova ancora questo fantastico drone che sta continuando a migliorare appena uscito un aggiornamento quindi questo volo sarà con l'ultimo aggiornamento quello del 13 giugno mi sembra che è uscito quindi appena uscito e mi fate sapere ragazzi nei commenti anche come vedete sviluppare e crescere questo Fimi X8 quindi adesso ragazzi tour di Selvino tour a terra di Montepoieto e poi ragazzi volo con Fimi X8 Fimi X8 The seasons come and go like thoughts of you Like a wave returns to the sea into the blue May change but in a cycle that I can't lose Each painful but delightful to live through You came into my life just like a novel season Not for long just a time just like a novel season Maybe this time next year You'll rip it for no reason but I'll cherish every day Until you find my way this season Until you find my way this season The seasons turn and change just like you're mine Like the sun gives in to the moon Like the sun gives in to the moon and to the night Time continues marching Time continues marching Time continues marching With each new one starting with each new one starting With each new one starting I recall Until you find my way this season Oh 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 ok ragazzi anche il volo con il film X8 e con le riprese a terra della DJI Osmo Action è finito qui a Selvino in Vaxeriana il drone si è comportato benissimo avete visto comunque una luce fortissima qua in montagna siamo intorno ai forse anche 1200 adesso non mi ricordo e la luce qua è veramente forte quindi fatemi sapere voi come l'avete visto in queste condizioni perché comunque è una condizione abbastanza diciamo estrema dal punto di vista della luce quindi fatemi sapere come si è comportata e anche come si è comportata la DJI Osmo Action a livello di stabilizzazione a livello di colori e anche a livello di audio perché è quella che mi sta riprendendo e l'audio che sentite è il suo quindi ragazzi se in questo video in cui vi ho fatto vedere Montepoietto dal film X8 e la DJI Osmo Action vi è piaciuto lasciate un grosso pollice su iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto e se vi va e ovviamente iscrivetevi a questo canale YouTube e ci vediamo nei prossimi video volio test ciao